Cosa ne pensi di arte prese in giro? Arte prese in giro? Arte prese in giro è la nuova corrente teorizzata ultimamente da Gillo Dorfless che ha 104 anni e ha avuto questa intuizione di dare questo nome a arte prese in giro, alla corrente artistica più interessante, più innovativa del momento. Grazie a tutti.